Domenica di festa davvero speciale per Cortona con il centro storico che si è trasformato in un giardino ed ha accolto gli artigiani. Il primo maggio è infatti tornata alla fiera del fiore e quella del rame. È la terza edizione di questo appuntamento dedicato alle imprese del mondo florovivaistico che per la prima volta si fonde con la manifestazione del rame lavorato. Giornata dedicata ai fiori non solo ma anche giornata dedicata alla festa del lavoro questo primo maggio, questa domenica primo maggio in cui abbiamo una vera ripartenza per quanto riguarda Cortona. Siamo alla terza edizione di Cortona in fiori oggi che allieta e movimenta le tre piazze piazza Signorelli, piazza delle Repubbliche e piazza Garibaldi non solo con i fiori con una bellissima scalinata per quanto riguarda il palazzo comunale ma anche con il rame che torna per la quarantesima edizione e anche l'artigianato. Dopo il weekend pasquale contrassegnato da un'alta affluenza di pubblico dunque anche nel fine settimana della festa dei lavoratori Cortona ha offerto un'occasione di richiamo per molti visitatori. Io sono stracontento di Cortona, sono felicissimo, vedo veramente tanto entusiasmo da parte anche degli operatori che ringrazio tutti, sappiamo che c'è già il sold out per l'estate quindi siamo più che soddisfatti, d'altronde le iniziative ci sono, la città offre tanti spazi, tante iniziative e non solo visite culturali ma anche parliamo della montagna cortonese, trekking e qualt'altro quindi diciamo che è un territorio molto aperto nei confronti del turista e il turista apprezza questo.